Grazie alla presentazione del quaderno numero 40 dedicato al nostro Presidente Onorario, Remy Gioratti. Grazie alla disponibilità di una serie di amici e conoscenti, ex colleghi, è stato possibile riunire un gruppetto veramente straordinario di testimonianze. Le abbiamo quindi alternate, c'è una presentazione cronologica della bibliografia, proprio per vedere nel contempo l'evolvere, le ramificazioni dei vari punti di interesse nella lunga attività di Remy Gioratti, di vedere come si sono arricchiti, come si sono riorientati sotto stimoli di vario genere, dati dall'attualità, dati dall'evoluzione della disciplina che a lui è più vicina, ma non solo, anche proprio la ricchezza di tutto il suo percorso, zigzagando tra la ricerca, la politica, i media, eccetera, eccetera, come ben sapete. Lo sentiremo di viva voce dai nostri ospiti di questa sera. Allora, l'idea era di far parlare loro brevemente, 10 minuti ciascuno, seguendo lo stesso, diciamo non proprio in modo molto rigido, ma seguendo uno svolgimento in parte cronologico, in parte biografico. E di conseguenza abbiamo strutturato la serata in questo modo. Cinque presentazioni, vi saranno purtroppo due persone assenti, anzi tre, un amico assente e poi due contributori che non hanno potuto essere presenti e lì daremo la parola a qualcuno che legge quanto ci hanno affidato. A questo punto vi chiedo se desiderate i cinque ospiti nell'ordine, vogliono sedersi qui o se veniamo uno alla volta, venite qui a prendere la parola. Il primo, il primo ospite, che darà anche qualche elemento di contesto allargato, è l'Avvocato Renzo Respini. Io vi ringrazio per l'onore che mi viene riservato di presentare per primo questo testo. Mi felicito con Coscienza Svizzera che ha preso questa iniziativa perché Remigiorati meritava e merita questo riconoscimento, merita di essere ricordato per tutto quello che ha fatto e merita anche di essere incoraggiato a continuare a fare e a produrre tutto quello che sta facendo. Trovo significativo il fatto che questa presentazione di questa bibliografia venga in un luogo istituzionale come la sala del Consiglio Comunale di Lugano perché Remigiorati è sempre stato molto attento agli aspetti istituzionali. Remigiorati è un uomo di Stato, è un uomo che sente la vocazione, il bisogno del pubblico, dello Stato, del ruolo dello Stato. Attorno a questo ha costruito tanto della sua passione di ricercatore e quindi è simbolico anche il fatto che questa presentazione avvenga e questo omaggio a Remigio avvenga in un luogo che è anche significativo da questo punto di vista. Trovo anche significativo il fatto che l'esergo di questa pubblicazione cita l'elogio dell'amitezza di Norberto Bobbio. è significativo perché Ratti sa che la risposta mite allontana il furore e credo che questo è anche un elemento della sua, una caratteristica della sua persona. Il Presidente ha ricordato prima che si vuole mettere l'accento anche sull'aspetto umano della persona. Credo che l'amitezza faccia parte di una delle virtù di Remigiorati. Ma non è una virtù così, tanto per allontanare il furore. Ma l'amitezza di Remigiorati è uno strumento perché la sua impegnata azione che volge verso la speranza di un mondo migliore possa essere ascoltata, non venga travolta dal furore, che oggi è abbastanza materia comune, ma meriti attenzione e riflessione. Quindi l'amitezza di Remigiorati è un elemento importante della sua figura, ma anche un elemento importante per quanto concerne il modo col quale lui fa passare i suoi messaggi. Nella citazione di Norberto Bobbio si dice che è una virtù debole la mitezza, propria di chi non ha potere. È al tempo stesso potente perché anticipa un mondo migliore. È la più impolitica delle virtù. Come fa l'amitezza a essere in politica? Una virtù in politica non lo so bene. Certamente è una virtù positiva della politica. Questo sicuramente. La forza dell'amitezza con Remigiorati si esprime nella sua indole che lo porta a considerare l'interlocutore come un pari. Con chiunque, con qualsiasi persona Remigiorati parla, parla da pari e si mette costantemente al livello del suo interlocutore. E questo è una dote umana importante ed è anche il motivo per il quale è Remigiorati ascoltato. E poi l'amitezza di Remigiorati si esprime anche nella volontà di far accettare al suo interlocutore il ragionamento come base di dialogo e di costruzione di soluzioni positive. In fondo l'arma del ragionamento è l'arma forte di Remigiorati. Un'arma che si basa sulle sue conoscenze, sui suoi studi. In fondo su questa bibliografia che rappresenta la sua biografia in fondo perché leggendo gli articoli degli studi che ha fatto, i campi di analisi che ha sfruttato, che ha approfondito, si segue l'evolversi delle sue passioni e della sua vita. Io ho conosciuto Remigiorati, possiamo dire, all'inizio degli anni 70 a Berna. Lui svolgeva delle ricerche nell'ambito dei trasporti ed era già apprezzato allora. E l'ho ritrovato quando nel 1983 sono diventato consigliere di Stato. Remigiorati infatti all'inizio degli anni 70 fa della funzione pubblica la sua passione di vita e diventa direttore dell'IRE. Era un momento molto particolare nel canton ticino perché l'inizio degli anni 70 rappresentano il finale di un decennio particolarmente vivace dal punto di vista politico-culturale, istituzionale, il grande dibattito sulla pianificazione, il grande dibattito sulla legge urbanistica, la creazione del Dipartimento dell'economia pubblica, espressione di una volontà del Ticino di giocare le sue carte a tutti i livelli. Quindi Remigiorati all'inizio degli anni 70 viene in Ticino e assume la direzione di questo Dipartimento. Io ho visto negli anni 80, quando sono arrivato io, i risultati di questo lavoro fatto negli anni 70 perché Remigiorati, con il suo URE di allora, l'Ufficio Ricerche Economiche, è uno dei protagonisti della nuova impostazione della politica che finalmente riesce a dare del desiderio del cantone di stabilire rapporti costruttivi tra l'autorità politica e lo sviluppo economico del cantone. Si parlava di programmazione politica, si parlava di programmazione economica, si è parlato di tutte queste cose, si è parlato di una legge urbanistica intesa allora come desiderio di gestire il territorio, di non far sì che il territorio subisse gli eccessi dello sfruttamento. Tutto questo cade in fondo con la caduta in votazione popolare della legge urbanistica. Però cade la legge, ma non cade il bisogno, non cade l'esigenza di cambiare le cose. E così, quando Remigiorati prende possesso dell'Ufficio Ricerche Economiche, con Flavio Cotti, responsabile del Dipartimento dell'Economia Pubblica, elabora questo concetto di pianificazione politica cantonale che in fondo a livello di legge è ancora esistente oggi. Una legge che ha permesso di sviluppare molte sinergie, ha permesso al cantone di identificare obiettivi di sviluppo coordinati, ha permesso alla politica di discutere di obiettivi della politica, ha permesso di coordinare le attività all'interno dell'amministrazione, ma ha permesso soprattutto di mettere a vantaggio della politica gli strumenti della ricerca scientifica. Credo che questo è il grande successo di questo periodo della politica, che tramite l'URE, tramite Remigiorati, tramite le reti di conoscenze che avevano stabilito a livello di ricerca e a livello di collaborazione con istituti universitari non soltanto svizzeri, si era riusciti a trovare le modalità per mettere in contatto la decisione politica con i risultati della ricerca scientifica. In fondo vedo qui l'ex direttore dell'Ufficio Statistica e quello che Ticino rincorreva dagli anni 30 quando ha costituito l'Ufficio di Statistica. Credo che sia quella stata una stagione positiva della politica cantonale nella quale Remigiorati ha dato un importante contributo. Non era soltanto la ricerca, la collaborazione della politica, ma era concepire la politica come un insieme, il rapporto sugli indirizzi, il piano direttore cantonale, le linee direttive, il piano finanziario, il ruolo della collaborazione tra lo Stato e l'economia, i partner sociali e i settori economici. Una stagione nella quale sicuramente l'URE di allora ha avuto un ruolo importante, una stagione nella quale Remigiorati emerge come una delle figure che ha svolto un ruolo essenziale. Nel breve testo che mi è stato chiesto di redigere ho menzionato che Remigiorati è un uomo di frontiera anche per questi aspetti della frontiera tra la ricerca e la politica, tra il ricercatore e la politica. E' stato Remigiorati anche un politico, un politico come consigliere nazionale, e trovo significativo anche il testo dell'allocuzione che ha fatto il primo di agosto del 1996, come consigliere nazionale, a Olivone. Perché questo fa capire qual è la concezione, la posizione del politico Ratti, che anche in questo si distingue dagli altri politici. Dice, i valori fondamentali dell'esemplarità svizzera restano quelli legati alla capacità di costruire nel rispetto degli altri, automoderando la propria forza, nella consapevolezza che c'è un limite a tutto e che esiste un grande interesse a mettersi insieme e a collaborare anche se ci si conosce male. E' un atto di modestia il sentirsi precari. Vuol dire capire che chi ha bisogno di aiuto, vuol dire, scusate, vuol dire capire chi ha bisogno di aiuto e sapere che un giorno si avrà bisogno di aiuto. Questa è l'amitezza di Remigioratti. Questa è anche il lievito che lui mette nella politica e quello che lui pensa essere la buona politica. Che deve ispirarsi certo ai principi etici, ma che deve sapere anche che il suo ruolo non è quello di realizzare nell'immediato i principi etici assoluti, ma invece di realizzare il bene comune concretamente possibile in una determinata situazione. Il Cardinale Martini dice, e in questo c'è una sovrapposizione di pensiero, non basta enunciare valori assoluti e principi non negoziabili. se non ci si impegna concretamente a realizzare il bene comune possibile attraverso il dialogo. Ecco, questo è il mio breve contributo questa sera, ma non vorrei terminare senza ringraziare personalmente anche Remigioratti per tutto quello che ha fatto nel periodo in cui abbiamo collaborato assieme a Bellinzona, ma nel periodo anche successivo e precedente, dove non ha fatto solo per me, ma ha fatto per tutti, perché Remigioratti, dicevo prima, è una persona che ha vissuto la dimensione pubblica, politica, della sua funzione di ricercatore a vantaggio di tutti. Quindi a te Remigio ancora tanti anni di attività, di curiosità e di condivisione con tutti dei tuoi ideali. Grazie. Ilio Venturelli, collega per vari anni che vi parlerà delle relazioni tra URE e USTAT. USTAT, UCS a quei tempi. Allora, scusate, io non sono alto come Renzo, non sono un oratore come Renzo Respini, per cui io praticamente vi leggerò un po' dei passaggi che ho già redatto per la pubblicazione e anche per restare nei tempi. il Presidente mi ha chiesto di focalizzare l'attenzione sulla concorrenza-competizione tra IRE e USTAT. Effettivamente abbiamo vissuto vent'anni di concorrenza e adesso competizione era quasi una guerra, all'ultimo sangue. Io non la vedrei così. io quando sono arrivato nel 1978, parlo della preistoria, sono arrivato all'ufficio di statistica e all'ufficio di statistica a quei tempi lavoravano cinque persone quasi tutte prevalentemente con compiti amministrativi. Mi ricordo che all'inizio facevamo le statistiche sulla popolazione straniera, sugli permessi di lavoro, con le stanghette come quando si gioca le carte. Uno, due, tre, quattro, trac. E poi si contava il numero di stranieri assommando tutte queste stanghette. Per dirvi, mi sembravo arrivavo dall'ufficio sulle ricerche dove palleggiavo già l'informatica e mi è sembrato un po' di arrivare nella preistoria. Però fortunatamente ero nei locali della Coop al primo piano, nel pianerotolo lì, vicino c'era la porta di un ufficio tutt'altro che preistorico. Anzi, era un po' un regno. Io pensavo al re Migio, al re Migio, lo dico per ridere un pochettino, ma effettivamente era un personaggio già acquisito, con tante competenze e apprezzato e attornato da numerosi economisti, sociologi, demografi che qui però non vedo, non sono Martino Rossi, Antonio Marci e via di seguito. Ed era un po' tutto a questo ufficio dinamico che era apprezzato a livello sia scientifico che, come ha detto Renzo, politico. E da questo ambiente stimolante l'ufficio di statistica ha tratto grande beneficio. Però devo dire anche che anche l'Ure già all'inizio ha potuto approfittare di alcune idee che avevamo noi. Nel 1979 avevamo creato una, non era una rivista, ma era un mensile chiamato Informazioni Statistiche. Era la prima volta che c'era, si metteva a disposizione dall'amministrazione cantonale un supporto dove tutti quelli che avevano delle statistiche e delle analisi socio-economiche potevano pubblicare da noi. E i primi contributi sono arrivati proprio dall'ufficio ricerche economiche. Quindi il primo, ho guardato nei lunghi elenchi di questi documenti, uno dei primi era fatto da Martino Rossi dal titolo Scuola e mercato del lavoro. Un argomento che mi stava a cuore e immediatamente Martino aveva scritto questo nel 79 e io credo che sono subentrati altri contributi dall'ufficio ricerche economiche che ha dato sostanza alla nostra pubblicazione. Tant'è che veramente sono arrivati moltissimi altri contributi da altri uffici, da altre divisioni e avevamo più di 2.000 abbonati. quindi questo posso dire che da un lato noi abbiamo beneficiato molto ma anche l'URE ha potuto diffondere tempestivamente diverse loro attività di ricerca. La proficua collaborazione tra i due uffici adesso qui sto leggendo è grazie alla comunione di intenti è testimoniata pure dalla costituzione della biblioteca di economia e statistica. All'inizio questa biblioteca era solo dell'URE poi quando ci siamo spostati dalla COP allo stabile Torretta abbiamo creato una grande biblioteca di economia statistica con tanta documentazione ed era molto frequentata. A tutti non venivano solo a cercare documenti venivano gli e questi erano gli studenti del commercio della scuola alberghiera e così via però venivano agli eventi che noi organizzavamo con l'URE sulla politica regionale sulla demografia sui possibili scenari demografici che facevamo assieme sul mercato del lavoro la politica sociale eccetera e sono presenti oltre agli accademici dei due uffici in questa biblioteca anche del personale scientifico dell'USI e della SUPSI e sovente veniva anche l'Ufficio federale di statistica a presentare le proprie novità ecco quindi era un ambiente dinamico che gestivamo assieme il ruolo di Remigio è stato determinante in tutto questo pur essendo profilato politicamente innegabile Remigio aveva una grande capacità di promuovere l'autonomia nelle attività di ricerca dell'IRE e nelle reti di relazioni scientifiche nazionali e internazionali di questa apertura su temi di grande attualità l'Ufficio di Statistica ma in genere il mondo economico e il Ticino tutto ha certamente potuto trarre beneficio pensiamo anche solo ai convegni sul fronte allierato al di qua e al di là della frontiera nell'ambito di internet di interreg interreg erano degli incontri Remigio ti vedo adesso prima non ti avevo ancora visto c'era molta gente anche al di là della frontiera andavamo a Como andavamo a Varese e c'era un'attività veramente molto seguita da ambedue le parti quindi anche questo è stato una grande opportunità è in dubbio visto che il tema iniziale è questo è che tra i due uffici c'era una certa concorrenza noi con modalità diverse trattavamo gli stessi argomenti l'Ure l'Ure però beneficiava di un sostegno politico evidente e più che meritato non è che il rapportato così è più che meritato Flavio Cotti menzionato prima da Renzo non mancava occasione per sottolineare l'importanza delle analisi fatte dall'Ure e nell'opinione pubblica si era creata l'impressione Remigio Corresimi se sbaglio che tutto quanto trattasse di aspetti socio-economici fosse frutto dell'Ure o dell'Ire successivamente io ho alcuni esempi su questo ma adesso non entro nei dettagli ma era più che meritato non è che voi volevate prendere qualcosa a qualcuno ma era diventata una forma mentis nella società che questo settore vi appartenesse di diritto completamente l'ufficio di statistica invece non ha mai goduto di questo privilegio sembrava quasi che la sua attività si proclamava che si proclamava indipendente ed era slegata da una visione dipartimentale e noi volevamo essere al di fuori al di sopra dei dipartimenti desse fastidio al punto che è un esempio che proprio mi è rimasto alla conferenza stampa per il 75esimo dell'ufficio che era una conferenza piuttosto importante anche abbastanza frequentata non era presente nessun rappresentante del dipartimento finanze magari gli espliciti malgrado gli espliciti inviti a partecipare io avevo invitato tutti i rappresentanti del dipartimento finanze a venire e c'è uno scambio di corrispondenza nutrito però nessuno nessuno è venuto quindi questo è sintomatico quindi l'impressione di un Ustat parente povero dall'ufficio ricerche economiche c'è un qualcosa di vero è legato appunto a questa a questa mancanza di sostegno di sostegno politico in realtà la concorrenza è stata la fortuna dell'Ustat proprio come ha scritto Remigio nell'articolo nell'allora trimestrale perché il nostro mensile è diventato trimestrale in occasione del mio pensionamento nel 2006 rendetevi conto come sono vecchio nel 2006 sono andato in pensione la statistica scriveva la statistica che Venturelli trova nel 1978 non è tuttavia il parente povero dell'ufficio ricerche economiche quest'ultimo si è trovato semplicemente a far da lepre a far da lepre bella scelta questa parola per necessità e ad occupare con la statistica una zona grigia sia per esplorare nuovi campi d'analisi socio-economica sia per affrontare il proprio programma di ricerca applicata alle realtà cantonali nazionali e trasfrontaliere ma nessuno precisa bene Remigio nessuna di queste ricerche poteva sostituire il lavoro sistematico di raccolta organizzazione analisi e pubblicazione che necessitava anni di lavoro questa è proprio l'affermazione della nostra collaborazione costruttiva e positiva e a proposito di questo aspetto vorrei riportare l'ultimo paragrafo dell'articolo che ho menzionato dove Remigio con grande lungimiranza scriveva caro Elio chi è oggi il parente povero in materia la società civile accercata dalla panoplia di offerte la politica presa dall'individualismo e dal particolarismo o forse semplicemente il senso del bene comune caro Remigio a vent'anni di distanza le tue considerazioni sono sempre di attualità come detto averio nel mio breve contributo tengo a sottolineare il debito di riconoscenza che ho nei tuoi confronti per quegli anni passati a inseguire una lepre che nella sua corsa apriva orizzonti stimolanti per il Ticino e non solo trascinando anche noi in questo vortice innovativo grazie Remigio Marta che ci parlerà oltre che alla sua propria testimonianza forse anche del metodo Remigioranti chers Remigio chers Augusta chers monsieur Pini et les membres de la Societè Cogenza Svizzera chers invités c'è c'è un honneur e un gran plaisir di poter participer a questa fête a ta fête Remigio e di presentare una piccola allocuzione per cantare ce che che hai creato in quanto intellettuale e in pubblica, e ciò che ho potuto vivere attraverso i nostri interventi. Rémi Gioratti è nato al Tessin. Il ha avuto una grande parte di sua vita scientifica e politica a sua region, ceci in sus ricerche, attraverso il suo intervento per la cultura e il benessere della Suisse italiana, ainsi che attraverso il suo intervento politico, professionale e associativo. Con le prezegno presso di un amico discreto, io ho affermato che alcune esperienze di sua vita l'ont marato e hanno forgiato i suoi interessi futuri scientifici e d'attori. Il suo padre, lavorato al CFF, l'ha amenato molte volte nel trajeto sulla linea di Ducottare. Il suo enfance a qualche pas di la frontiera italiana e della gara di triaggio di Chiasso. Il suo intervento nella politica studiantina suisse, dove dove si è stato apprenduto contro la Suisse, può essere parfois difficile di essere sentito e capito. Remigio si è confrontato molto presto alla singolarità di suo canto. Il ha chiesto di le decortico, di le difendere, di le migliorare e anche di le trasformare in atto. Il ha soprattutto influenciato l'imagine del tessin verso l'interno e verso l'interno. Il ha parfois dovuto soffrire dei pregiudizi vehiculati all'interno e delle dissonzioni e blocage all'interno. Io sono felice di aver potuto partecipare a diverse pubblicazioni editate da Cogenza Spizzera, l'associazione che gli ha tanto a cuore. D'amanteur e fin connaisseur d'URAI, il è diventato un concetto di reso. D'amoreux della lingua italiana, il è diventato un rappresentante della Suisse italiana in alcune delle funzioni e a tutte le schienze nazionali, transfrontaliere e internazionali. Di curiore observatore, di molte imbricazioni tra territori e frontiere, il si è affermato come teoriciano dei espaci e limiti a tutte le schienze. Rémi Gioratti non è un economista che corrisponde all'imagine che si può avere questa professione. Certi, l'economia è stato il suo choice di formazione. Il ha dirigito un istituto di economia regionale, d'ailleurs a partir dell'uomo di 28 anni, e ha insegnato questo domani in diverse università. Perciò, d'après mia lettura, Rémi Gioratti ne s'est guère vu lui-même en tant qu'economista, bien qu'il soit aisément servi des théories e méthodes di questa scienza per le applicare al domaine di suo intérêt. Ces domani sono parmi questi che erano considerati a l'epoca come mineure. L'economia regionale, la cultura, i transporti, tutti proche dell'Etat. A partir dei anni 1990, questi domani hanno subito grandi cambiamenti con forti impacti sull'espaccio. Rémi Gioratti è stato affascinato e affascinato per questi cambiamenti di schienze geografiche e i processi di globalizzazione. Rémi Gioratti, in cui è entrato in questi convicti liberali, ha insistito su la necessità di una buona governanza, di una definizione clare delle regole del gioco. Per l'economia, si è stato afferminato sull'analyse di mutazioni storiche, sui lungo termine, poi si è interessato in teori e misure di adaptazione. Le Tessin si è avuto un campo di observazione e di action ideale, situato tra il sud e il nord, tra l'appartenenza alla lingua e la cultura, e quella del contesto confedale, tra una posizione geografica isolata e delle ouverture par paliere grazie al percezione dei tunnel tra le fasi di frontiere absente, overte, ferme o flù, tra affrontamenti e collaborazioni doublemente periferiche e doublemente privilégiate. C'è potente nella temazione dei territori e frontiere che ha spostato le più lungo queste approche théoriche. Ho avuto la chance di rencontrare Rémi Gio nel 1975 nel cadre della Societè Suisse d'etude per l'organizzazione di l'espacere e di la politica regionale, società che il dirigere in le anni 90. Sua direzione, una declarazione per una politica active di l'espacere suisse ha avuto il giorno prima del voto del 6 décembre 1992. Il contesto di questa società ha permesso una collaborazione fructueva di specialisti e politiche regionale a l'échelle suisse. ho avuto il senso aiguo di Rémi Gio per l'espacere di Rémi Gio sa visione strategica e poi, più tardi, ho avuto il suo lavoro senza limiti per il bene pubblico e la capacità di indossare le responsabilità istituzionale. Il non ha mai renoncato a de nombreux tragetti a travers le Gotthard per sognare le lien confedero o per rappresentare o per rappresentare che i sui raii sono a pensare al di fronte che Roma è una capitale europea che la Mediterranea ha un potente di transporte e che Milano è la più grande metropole che existe in l'orbita suisse. Membro del Parlamo Suisse ha rappresentato il suo paio a Bruxelles e Strasbourg con un'esperienza pregnante per l'attività. Durante queste 20 anni i raii messaggi con Rémi Gio sono intensificati grazie a dei corsi partagati a le PFL e grazie a la redazione di numeri articoli per le conferenze e le pubblicazioni che io ne s'assucia i nostri spiegati i nostri spiegati i nostri spiegati attorno alle questioni del raii e delle frontiere e delle transfrontaliere ho appriso a conoscere Rémi Gio in suo funzionamento in quanto scientific curioso critico meticulo cercando la sistematica di un fenomeno certainemente un partenaire avisé estimé de débat e parfois in creando el mesmo delle opportunità per le pere admiratore dell'infrastrutture excepzionale analista di suo ruolo motore per l'economia regionale promoteur di mantenere di integrazione nei rischi europei certi Rémi Gio non è il nostro a difendere i vedi e i valori e il ha collaborato con molti partenari ma è il è probabilmente il è probabilmente qui a pu le faire a des échelles si variées en tant qu'économiste ma è il ha con una vision dei fenomeni historici politici culturelli geografiche voire d'ingénierie e in considerando ces domaines interreliers e in movimento grazie grazie chèri Rémi Gio per tutto il lavoro e il piacere partagé per l'expérience comuni tu as enrichi la mia vita su bien dei plan e tu as enrichi la vita di molti d'autres persone dont tutte celles che sono réunis ce soir e finalmente la vita della Svizzera italiana grazie 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 mille anche per questa bella testimonianza ora è il turno o sarebbe il turno di Lanfranco Sen docente emerito dell'Università Bocconi che purtroppo non può essere tra noi quindi abbiamo trovato un interprete d'eccezione buongiorno io sono Stella e ciao nonno e sono qui per presentare il contributo di Lanfranco Sen la prima la prima volta nel 1971 in cui mi sono imbattuto nel nome di Remigio Ratti è stata quando scelsi di recensire per il giornale degli economisti rivista di economia politica molto qualificata allora in Italia la sua tesi di dottorato su i traffici internazionali di transito e la regione di Chiasso quella tesi in realtà conteneva due delle parole chiavi tra sporti e regione che hanno contrassegnato molti dei nostri successivi comuni interessi scientifici culturali e professionali forse perché in quegli anni non erano in molti ad occuparsi di economia dello spazio e ogni volta che uno dei due si imbatteva in occasioni che la potessero riguardare ci cercavamo l'un l'altro negli anni 80 le nostre due grandi opportunità di incontro e collaborazione furono anzitutto la sua proposta di coinvolgermi nel gruppo di lavoro per le istituzioni del Cusi il primo tentativo dopo tanti anni di creare una struttura di formazione universitaria svizzera di lingua italiana la seconda opportunità si creò nel 1986 1987 quando essendomi preso un anno sabbatico proposi a Remigio di sostituirmi lui nell'insegnamento di economia regionale che ricoprivo a Bergamo la stima reciproca che caratterizzava i nostri rapporti divenuta poi anche sincera amicizia ci portò successivamente a collaborare nell'Usi quando proposi di chiamare Remigio e di insegnarvi dopo la sua lunga carriera a Friborgo Remigio collaborò anche con un mio allievo Alberto Bramanti con il quale scrisse anche libri e saggi in comuni insieme pubblicarono un contributo intitolato cooperazione trasfrontaliera nell'era glocal in cui volume edito nel 2014 in occasione del mio pensionamento all'università Bocconi questo titolo mi offre lo spunto per scegliere a partire dall'amplissima bibliografia di Remigio alcune tematiche che sono state maggiormente oggetto delle nostre comuni riflessioni scientifiche parto proprio dal concetto di glocalismo Remigio fu mosso dalla constatazione che lo sviluppo di qualsiasi realtà territoriale è glocale cioè al tempo stesso locale e globale appassionato al suo Ticino ha spesso il trattato della dimensione locale del territorio cantonale sempre però vista nella dimensione aperta e globale delle interconnessioni trasportistiche di quelle culturali linguistiche di quelle bancarie finanziarie di quelle universitarie eccetera con questa attenzione alla natura glocale dello sviluppo si lega un'altra grande intuizione di Remigio quella dei milieu innovateur insieme abbiamo fatto parte del Gremi gruppo de recherche europea sur les milieu innovateur che negli anni 80 e 90 aveva teorizzato ed esemplificato con numerosi casi studio come lo sviluppo di molti territori prendesse le mosse da concentrazioni territoriali di filiere innovative produttive e culturali che si manifestano a livello locale ma che si espandono nello spazio globale per le loro reti di imprese e mercati i confini istituzionali nulla possono fare per contrastare i fenomeni locali dello sviluppo questo è il terzo concetto innovativo su cui Remigio ha dato un contributo scientifico fondamentale la sua intuizione fu che al ruolo di barriera dei confini fosse più realistico contrapporre il ruolo di cerniera l'esempio più probante di questa realtà è quella dell'area trasfrontaliera tra Italia e Svizzera quell'area in subrica che legando il Ticino alle province italiane di Come Varese ha dato vita a numerose iniziative concrete di collaborazione tra università nel campo della mobilità nel campo dei mercati del lavoro addirittura concependo un'omogenea configurazione territoriale come la città dei laghi di questi temi abbiamo parlato insieme in numerosi convegni anche nel padiglione svizzero di Expo 2015 ma soprattutto in alcuni forum italo-svizzeri organizzati in alternanza a Berna e a Roma con il ruolo attivo delle due ambasciate di Svizzera Italia ho voluto sottolineare con questi esempi che il contributo di Rimigio è sempre stato contemporaneamente scientifico e tra virgolette politico la sua capacità di trarre delle riflessioni teoriche le conseguenze pratiche che la realtà impone a tutti i livelli grazie Rimigio per quello che hai detto fatto e scritto Lanfranco è la volta di Oscar Mazzolini ci avviciniamo un po' nel tempo agli ultimi decenni ecco buonasera abbiamo sentito parlare degli anni settanta a più riprese questa sera io negli anni settanta ero appena nato quindi difficilmente avrei potuto incontrare Rimigio Ratti io quindi appartengo alla generazione ben oltre a quella che ha fatto riferimento e che hanno fatto riferimento le persone che sono intervenuti prima di me e a cui hanno parlato hanno espresso la loro diciamo esperienza in relazione a Rimigio Ratti io Rimigio Ratti l'ho incontrato forse per la prima volta nel 2005 2006 quindi ieri mattina e in sostanza la mia mi avvicinarsi a Rimigio Ratti la collaborazione che è durata diversi anni con Rimigio Ratti si intreccia con la storia di coscienza svizzera Rimigio è stato presidente per la seconda volta dal 2007 al 2018 e io sono entrato nel comitato di coscienza svizzera proprio nel 2007 in un momento in cui Rimigio Ratti stava cercando nuovi leve per nutrire il comitato e quindi ha cercato il giovincello che stava all'ufficio di statistica e che aveva l'onore di aver collaborato con il qui presente Elio Venturelli che aveva fatto l'errore di assumermi all'ufficio di statistica e in quel Remigio aveva individuato nel pazzerello presente qualche potenziale di collaborazione e questo ha sicuramente giovato personalmente me e poi secondo me anche l'associazione da questo incontro da questo sodalizio sono nati diverse iniziative è nato anche un gruppo interno che si chiama Frontiere Culture non a caso il concetto di frontiera fondamentale nel lavoro di Remigio Ratti e da lì poi sono scatturite pubblicazioni tre libri che sono stati pubblicati in Ticino su queste tematiche anche sui temi globale e locale sul tema delle frontiere e qui mi permettetemi di sottolineare un punto che è già stato in parte affrontato e sottolineato da chi mi ha preceduto in sostanza Remigio se si vuole andare come dire in sintesi per chi come me diciamo prova a fare lo studioso di cose politiche di ricercatore in sostanza per me Remigio sono due concetti passione e curiosità intellettuale e da questo che diciamo nasce la mia grande stima nei suoi confronti e come dire con grande sincerità la ribadisco qui una stima che si è costruita nel lavoro quotidiano anche molto intenso nel corso degli anni e che come dire ha avuto in qualche modo il suo apice dal mio punto di vista personale quando in preparazione dell'ultima pubblicazione che abbiamo fatto che ha fatto lui che doveva essere una collaborazione qui permettetemi l'aneddoto quest'estate ci siamo incontrati il comitato di coscienza svizzera io come invitato abbiamo pensato facciamo un quaderno un e-paper come si dice sui temi del rapporto trasfrontalieri ma anche in relazione ai rapporti con Berna il tema che è stato menzionato prima dal presidente e ci siamo accordati di come succedeva anche in passato di collaborare la redazione di questo saggio qualche settimana dopo Remigio mi dice guarda l'ho già preparato l'ho già preparato è già pronto ma come io io pensavo che tu mi dessi una parte che poi potevamo no no l'ho già fatto lo leggo e mi dico ma c'è già tutto io non devo più fare nulla poi vabbè alla fine ho fatto l'introduzione e poi nello scambio questo è Remigio Ratti nello scambio a 80 anni in questo scambio a un certo punto mi scrive una mail mi scrive una mail alle 11 e mezza di sera e mi dice senti ci vorrebbe ancora una piccola modifica sì sono appena tornato da teatro però mi è venuto in mente che bisognava ancora fare queste modifiche allora 80 anni Remigio Ratti questo 80 anni allora io come dire penso che di Remigio Ratti bisogna ricordare tutto quello che è stato ricordato finora ma di Remigio Ratti bisogna ricordare questa perseveranza questa passione questa curiosità intellettuale che prescinde da qualsiasi funzione pubblica professionale che Remigio ha occupato dall'Ire Ure il direttore dell'RTSI e come politico evidentemente al Consiglio Nazionale cioè Remigio Ratti a prescindere da tutte queste funzioni continua a fare esattamente quello che faceva 40-50 anni fa e lo fa con passione non lo fa in modo come dire per poter dimostrare e fare ancora qualche cosa no si capisce che è un rapporto genuino con questo col sapere con la conoscenza e poi evidentemente quanto è già stato detto con il suo rapporto con col paese quindi quello che fa non lo fa per come dire erudizione o per dimostrare qualcosa per vanità ma lo fa per gli altri per la crescita civile del paese e questo ecco tutte queste dimensioni penso che siano da salutare personalmente siano l'espressione diciamo del perché ho accettato anche di partecipare a questa pubblicazione doverosa ecco per me se dovessi immaginare di tornare a fare lo storico come avevo fatto una vita precedente beh penso che la storia del Ticino del del novecento almeno la seconda parte del novecento tra i personaggi importanti che hanno segnato la storia sicuramente dovremmo pensare di inserire remigiorati vi ringrazio grazie Oscar l'ultimo testimone pure assente è la professoressa Maria Antonietta Terzoli docente emerita di lingua e letteratura italiana all'università di Basilea per riassumere il suo messaggio la sua testimonianza abbiamo un'altra nipotina buongiorno io sono Maria Luce e sono la nipota di mio nonno Remigio e ora vi leggerò il contributo di Maria Antonietta Terzoli Remigio l'Italico ho accettato con molto piacere l'invito a partecipare a questo omaggio collettivo a Remigioratti per testimoniare il suo generoso e infaticabile impegno a favore della lingua e della cultura italiana e svizzera e nel mondo globalizzato il nostro primo incontro risale all'inizio degli anni 90 io ero una giovane professoressa arrivata da poco all'università di Basilea e Remigio un celebre economista con grandi responsabilità politiche e amministrative di quella serata conviviale ricordo soprattutto l'ammirazione che avevo provato per uno studioso pieno di iscrizione di rispetto e di tolleranza erano in effetti qualità che molti anni più tardi nel nostro comune impegno a sostegno dell'italiano avrei imparato a riconoscere come costitutive della sua personalità e del suo modo di interagire con gli altri nel marzo del 2011 all'università di Zurigo ebbe il piacere di ascoltare una sua relazione su un tema che stava diventando uno dei suoi punti di riferimento nella difesa della lingua e della cultura italiana l'italicità un paradigma per nuove prossimità quell'approccio mi sembra molto innovativo e convincente con Carlo Alberto di Besceglia presidente dell'ASRE di Basilea decidemmo quindi di organizzare due giornate di riflessione sul ruolo e l'importanza dell'italiano in Svizzera e di invitarlo la relazione che Remigio tenne nel novembre 2012 al convegno di Basilea intitolata l'italicità un utile neologismo per guardare oltre l'italofonia rifletteva in maniera straordinariamente lungimirante sul quadrilinguismo sbizzero alla prova dei processi di globalizzazione insistendo sulla necessità di far rete e di costituire di costruire nuove prossimità non solo geografiche ma anche istituzionali e organizzative all'interno del forum per l'italiano in Svizzera annunciato ufficialmente da Manuele Bertoli proprio al convegno di Basilea e fondato a Zurigo il 30 di quello stesso mese di novembre Remigio riuscì a costituire un gruppo di riflessione il gruppo 4 dedicato a quadrilinguismo svizzero e sfide della globalizzazione il gruppo 4 preseduto da Ratti e composto da Raffaella Castagnola Veri Opini Sergio Roic e la sottoscritta per molti anni si è impegnato attivamente per la valorizzazione del ruolo dell'italiano come ponte sociale e culturale nella sfida comune del quadrilinguismo svizzero rispetto alla globalità segnalando anche le implicazioni strategiche che ne possono derivare sempre nell'ottica cara Remigio di fare rete con la partecipazione con il sostegno di istituzioni svizzere italiane ASRI Coscienza Svizzera CRI Forum per l'Italiano RSI Università di Basilea nel maggio 2014 il gruppo 4 ha organizzato a Basilea il convegno internazionale l'italiano sulla frontiera vivere le sfide linguistiche della globalizzazione dei media si voleva affrontare il tema dell'italiano lingua nazionale ufficiale della Svizzera nel più ampio contesto della globalizzazione riflettendo sul ruolo di una lingua che nella Confederazione è per eccellenza lingua di frontiera dove deve misurarsi con lingue maggioritarie il tedesco e il francese e insieme con l'inglese la riflessione riguardava anche il multilinguismo come opportunità comunicativa intellettuale la sfida dell'italiano nella pluralità linguistica globale come ponte tra lingue e culture diverse il ruolo dell'italiano nella vertiginosa espansione dei media elettronici con particolare attenzione al ruolo dei media nel servizio pubblico tutti i temi centrali nella riflessione nell'impegno di Remigioratti durante gli ultimi decenni il convegno del 2014 si è chiuso con una dichiarazione programmatica massime e proposte per una governanza dell'italiano e del quadrilinguismo svizzero di fronte alle sfide esterne pubblicata nel volume degli atti che abbiamo curato insieme il libro è stato presentato il 6 giugno 2015 presso il pasiglione svizzero dell'Expo universale di Milano in una tavola rotonda dedicata al tema del plurilinguismo che potremmo anche intendere come una preziosa specialità svizzera all'interno di un mondo globalizzato in cui la conversazione no e la conservazione e la difesa di lingue e culture minoritarie si presenta sempre di più come una necessità ineliminabile condizione necessaria per ogni convivenza democratica il titolo unitario della manifestazione era nutrire il pianeta lingue per la vita accogliendo l'insegnamento di Remigio Ratti sappiamo oggi come forse non mai che questo deve essere un auspicio e insieme un monito prezioso per il futuro bravissimo molto molto bello a questo punto ho il piacere di se non altro salutare due amici di lunga data uno presente e uno assente presente Angelo Zanetta che ritroverete anche nel volume con una bella foto al momento in cui cinque compari festeggiavano 50 anni dopo a Friburgo l'ottenimento della loro tesi di dottorato il secondo il secondo ospite assente mi ha chiesto di leggervi questo breve messaggio è Carlo Managuerra torniamo nel mondo della statistica caro Verio anzitutto un grazie di cuore del tuo messaggio purtroppo non mi trovi in piena salute ed è per questo che devo rinunciare alla presentazione in olore di Remigio ti prego di scusare la mia assenza alla manifestazione di lunedì prossimo se c'è una persona in Ticino che merita di essere onorata per la sua opera di ricercatore e di politico nei vasti campi dell'economia è proprio Remigio Latti a lui mi lega da lungo tempo una stima e un'amicizia profonda rarissimo trovare una personalità come Remigio che ha spaziato su scala locale regionale nazionale e internazionale e su temi di grande interesse e attualità bello il suo impegno a livello scientifico ma anche politico chi dice Remigio pensa immediatamente ai trasporti un campo che già interessava un giovane allievo di Caizzi ma anche coloro che pensano frontiera incontrano le ricerche di Remigio grande volgarizzatore delle riflessioni scientifiche ci lascia un patrimonio di conoscenze impressionante bella affascinante stimolante quest'opera di un ticinese che ci ricorda il grande Francini una stretta di mano e un abbraccio affettuoso a un carissimo amico ancora e sempre attivo e impegnato un saluto con gratitudine va senza dubbio alla sua cara moglie auguri vivissimi Carlo a questo punto immaginerete che la parola va al diretto interessato quindi pregherei Remigio di venire al mio posto ecco ma io comincerei guardando Martin Schuller stamattina oggi inizio pomeriggio l'ho chiamato e ci conosciamo da tempo come ha detto e lui mi dice Remigio ti è un po' nervoso ed era vero mi conosce e quindi al telefono ha captato che forse ero più nervoso oggi che non quando dovevo presentarmi a qualche esame di ogni genere perché è chiaro che è difficile rispondere dopo aver sentito queste testimonianze che piacciono perché vengono veramente da qualcuno da tutti che mi conoscono quindi non so un Elio Venturelli che dice ma io insomma ce l'ho avuto qui per tanto tempo insomma il fatto che io ero ufficio di statistica e poi quelli lì eccetera e poi il tempo è galantuomo e quindi il tempo dice vabbè abbiamo fatto la lepre e oggi l'ufficio di statistica 40 collaboratori e ci dà tutta una serie di analisi che allora non c'erano ma il ricercatore andava in avanti e quindi praticamente che conta quello che che si vede che si vede alla fine ecco mia moglie mi dice no ma devi star dentro nei binari magari vorrei ringraziare tutti coloro che sono intervenuti però diciamo l'hanno fatto così bene e poi dopo insomma ci sono le sorprese che anche chi non è intervenuto qui perché è assente e poi vedo la grande sorpresa di due nipotine che hanno letto bene ma probabilmente letto anche magari capendo l'altro giorno eravamo al circo adesso capisco perché perché Maria Luce mi dice ma tu la Maria Antonietta eccetera ecco bene quindi tra gli assenti comunque devo frontiera rapporti con l'Italia in particolare ecco vedo qui il console generale d'Italia ministro Meucci che quando può c'è sempre le cose di coscienza svizzera e io benvolentieri anche partecipo alle attività che sono diventate così belle intense che tutte le settimane c'è qualcosa e quindi non si può proprio essere sempre presente alla Sala Carlo Cattaneo e già che parliamo di Milano è stato nominato prima c'è qui Alberto Bramanti il mio grande amico dell'Università Bocconi amico di Varese col quale scrivevamo già erano anni 80 un bel libro sulle macro regioni europee che erano poi anche le regioni di frontiera grazie Alberto per essere qui e non voglio un grazie e i complimenti che mi avete fatto io credo che li devo restituire restituire perché in fondo se l'obiettivo è quello di essere così in questa zona grigia tra accademia tra università e politica io ho cercato di viverlo però poi tutti quelli che hanno parlato sono degli attori in questa in questa campo e quindi ecco che Renzo Respini parlava di un nuovo modo di fare politica che si era trovato tra l'altro negli anni ottanta era proprio c'è qui Achille Crivelli che va veramente citato perché in questo nuovo modo di fare politica c'era un cancelliere e lui lo è stato per parecchi anni che faceva da traduigno tra un consiglio di stato e un'amministrazione e magari poi noi lo criticavamo perché era un po' lui un militare non mi ricordo mai il grado ma il massimo grado del militare era brigadiere ecco brigadiere Crivelli però tanto ci teneva in riga e noi il bello era che si potevano dire le idee e poi vabbè la politica fa quel che vuole Renzo Respini me l'ha sempre detto anche Flavio Cotti voi producete le idee metteteli lì bene e poi la politica è la politica e quindi cosa che non è più capita oggi non è più capita oggi che il politico ha bisogno di avere questi input che vengono e non di ignorarle perché spesso è l'ignoranza oppure di prendere qualche fiorellino di qui o di là e poi utilizzarlo in una politica del quotidiano del breve termine e ecco questo è un po' l'essenziale del discorso e quindi tutti i complimenti che sono arrivati credo che li posso veramente far ritornare ai presenti e anche agli assenti e in particolare anche a coscienza svizzera che in fondo rappresenta coscienza svizzera è nata nel 48 quindi ha una lunga vita e ha saputo credo sempre interpretare il mondo il mondo che cambia qualcuno sentendo il nome coscienza svizzera dice ma beh questi qui sono dei patriotti sono destinati a fare i conservatori no siamo sempre riusciti a guardare in avanti e a coltivare un po' tutte le discipline ecco vedo qui lo storico il geografo il letterato beh tutti tutti ci sono ciao Roy ciao Sergio ecco e il divertirsi il divertirsi nel captare sempre con un obiettivo nel captare quello che ognuno può dare e quindi vorrei terminare comunque con il fatto che alla sorpresa ci sono almeno due corollari un corollario beh molto terra terra è stato quello che quando lui mi ha sorpreso dicendo ti vogliamo fare un documento con la tua bibliografia intanto però io ho lavorato mezz'estate per tirare assieme tutto e poi nemmeno dando soddisfazione a mia moglie perché si l'ho messi in forma digitale ma la forma fisica c'è in giro roba dappertutto in casa e non so quando quando farò e l'altro corollario è un po' più pesante è che vabbè uno fa una lista bibliografica che poi è diventata bio anche grafica e si dice vabbè guardo indietro insomma è come fare un bilancio magari 80 anni si viene voglia di fare i bilanci ma sono poi pericolosi questi bilanci 80 anni no ti preoccupano un pochettino e no poi pensandoci su e ringrazio Costinza Svizzera perché mi sono chiesto ma c'è la mia nipotina quella lì piccolina che legge ecco che mi dice eh ma no ma tu dovresti essere in pensione perché sei sempre lì con queste cose e allora io dico no il segreto di questo agire è il fondo che ho trovato sempre persone che ti danno fiducia e quindi il dare fiducia vuol dire e vabbè allora se qualcuno ha fiducia in me devo dare del meglio per restituire questa fiducia e uno che che guarda o leggerà perché l'e-paper è digitale ci girano solo alcune coppie scritte e vede che in fondo perché sono arrivato in Ticino dopo dopo aver fatto l'abilitazione all'insegnamento essere stato in Inghilterra avere avere praticamente già un posto a Berna con la garanzia di insegnare a Friborgo no c'era Pietro Balestra econometrista che non è assolutamente la mia materia che mi dice no noi riprendiamo la commissione delle ricerche economiche perché bisogna sempre ricordare la politica qui si va bene un ufficio un istituto però una commissione in questo caso composta dai diversi partiti anche che sorveglia il lavoro scientifico poi i politici fanno il resto ecco Pietro Balestra econometrista molto quotato è stato decano della facoltà di economia a Lugano mi dice no Remigio eravamo qui in piazza Riforma a Pasqua c'era un po' di sole anche no abbiamo bisogno di te per cosa e no per dirigere l'ufficio ricerche economiche che allora era andato bisogna dire le cose come sono in fallimento perché dopo dieci anni c'era questa direzione di Basilio Biucchi uomo di carattere c'era anche stato membro della commissione professor Kneshawrek di di Sangallo e Bruno Caizzi vedete che c'erano anche le tre componenti partitiche però la politica di allora si è sfasciata e Basilio Biucchi col suo carattere violento li aveva veramente stancati tutti per cui l'ufficio era proprio e c'era stato Angelo Rossi che poi è andato via c'era stato Carlino Malaguerra che era stato nominato e poi che non ha preso il posto perché in fondo cosa vado lì a fare per fortuna sua perché intanto è andato a Berna ed è stato uno dei direttori dell'ufficio di statistica che ha veramente dato un grandissimo impulso e ha modernizzato tutta la statistica attuale e ecco quindi è fiducia tu rispondi insomma poi qualche anno dopo arriva il presidente del partito popolare democratico di allora Fulvio Caccia che si era un politico ma era stato un uomo di scuola un uomo sicuramente che non interpretava la politica che mi dice ma in fondo per le elezioni del 1995 abbiamo bisogno di persone nuove io ho mai fatto politica né mai in un consiglio comunale né niente magari avevo la mia etichetta perché perché nel Ticino ogni famiglia ha la propria etichetta e vado in lista e batto faccio il primo da Airolo fino a Chiasso con il presidente del partito che diventa secondo e purtroppo con una donna che era Mimilepori che era in consiglio nazionale che non è più stata rieletta perché io ho fatto più voti di lei ed ero l'ultimo insomma ecco vuol dire anche in questo caso qualcuno ha chiesto dagli fiducia rispondi poi arriva arriva l'anno 2000 e c'è Claudio Generali che non era del mio partito che mi dice mi telefona mia moglie mi rimprovera ancora adesso ma ieri sera mi ha detto che gli dici di no era mattina Generali furbo e sapeva che i consiglieri nazionali già alle 6 più o meno sono svegli alle 7 di mattina telefono Remigio ho bisogno di sapere se tu mi dici sì o di no per prendere la direzione della radio televisione svizzera la mattina a pranzo prima aveva parlato con Valpen perché il direttore della RTC è anche membro della direzione della SRG la radio televisione svizzera e gli dico di sì e gli dico di sì ma io mai avevo pensato alla radio della televisione insomma ho interpretato a mio modo l'essere direttore di una radio televisione che già allora poteva avere parecchi problemi e quando mi chiedevano ma lei in più non potevo dire guarda che esperienza che ho io ma lei non ha paura dei problemi e io rispondevo no sono un ricercatore il mio problema è guardare questi problemi e mettere i collaboratori nella migliore condizione di svolgere il loro lavoro i problemi dell'azienda sono miei e così io l'ho interpretato per sette anni ecco questo per dire appunto come la fiducia conta e oggi probabilmente non viviamo per nulla in questo ambiente di dare fiducia che poi richiama subito il rispondere a questa fiducia e coscienza svizzera è un un ambito mi ha fatto un po' dispiacere sentire all'assemblea che ci sono tutti questi problemi di ecco il cantone che finanzia solo certe cose Berna che finanzia solo una tutto il resto basta perché prevalgono i criteri contabili perché i funzionari non hanno più quella libertà che abbiamo avuto in passato che abbiamo vissuto il funzionario ha solo paura di essere criticato e quindi no e la politica una certa politica vuole che il funzionario sia lì a funzionare quindi a interpretare magari non tutto una legge una parte guardo Mauro dell'Ambrogio che queste cose le conosce fino in fondo e soprattutto però ci vogliono i Mauro dell'Ambrogio che a un certo punto di fronte a certe cose dice beh ma qual è l'essenziale e butta tutto in aria come è fatto molte volte ecco questo è lo spirito e adesso devo proprio terminare però mi termino con una piccola soddisfazione proprio mia e l'altro giorno c'è Giampiero Casagrande l'editore che è stato anche il mio editore di alcuni libri che mi dice no guarda che sul sole 24 ore di oggi Aldo Bonomi scrive un articolo che vedrà che ti interessa vabbè prendo il sole 24 ore Aldo Bonomi sì è vero che mi cita in quell'articolo però poi termina e inventa guardo il geografo e termina dicendo no oggi lui parla di realtà regionali e dice no questa è una realtà geo bisogna costruire una geocomunità allora geocomunità guardo Claudio Ferrata che ha appena scritto un libro di sintesi bellissimo geocomunità allora mi è piaciuto il termine però in un articolo non avevo capito tutto allora gli scrivo ormai una mail e lui mi risponde no ma guarda che il termine geocomunità io lo devo a te lo devo a te perché tu mi hai parlato di spazio di rappresentazione spazio di relazione ecco tutta questa serie la geocomunità è una comunità di oggi sì che ha i piedi per terra a Lugano nel Ticino ma è glocal nel medesimo tempo vive di rete di relazione e questa è una soddisfazione che mi prendo concludendo questo questo magnifico incontro e quanto posso essere veramente grato a tutti a voi a te Verio e concludendo spero che ci sia ah sì ecco che c'è che c'è Augusta che vuol farsi vedere sempre di profilo perché è discretissima e poi devo anche ringraziare le mie figlie le mie nipotine i miei parenti in particolare Fiorenza perché no anche la Vilma però la Vilma fa l'oncologa per il momento non è ancora intervenuta spero la Fiorenza invece ha seguito i miei corsi e come qualcuno giustamente dice Martin Schuller magari certe cosette che ha fatto il papà sono dovute anche alla Fiorenza in particolare il concetto di prossimità che era uno dei rami di ricerca della politica regionale ecco ho chiuso grazie a Verio grazie a Coscienza Svizzera e a tutti voi adesso c'è un doveroso omaggio al nostro presidente onorario questo è per te questo per il festeggiato grazie con gli auguri di compleanno oltre che ovviamente il ringraziamento per tutto quello che hai detto e fatto grazie a tutti voi un omaggio anche per tua moglie un omaggio floreale per Augusta e un piccolo pensiero anche per i nostri cinque testimoni non siamo dei grandi cerimonieri ma è un un piccolo omaggio proprio con molta simpatia vi devo due indicazioni molto semplici ma importanti abbiamo fatto una tiratura di cento esemplari su carta che gli interessati possono chiederci possono chiederlo al segretariato ma sarà disponibile sul sito credo che lo sia già ma sarà disponibile nei prossimi giorni una versione digitale che potrete scaricare e utilizzare